ragazzi in certo qual modo sono riuscito a prendere quella creatura che ho visto ieri nell'erba cercherò di farvela vedere ho filmato varie volte perché purtroppo non viene mai bene a causa della luce adesso spero di riuscire a farvela vedere ragazzi questa è la famosa creatura che trovai nell'erba che vi mostrai nel video qua cercherò di farvi vedere bene com'era la sembrava molto azzurra ma in realtà poi si riesce a capire che non era quella azzurra ma più che altro è grigia io sono cercato di farmi un'idea di cosa possa essere che sia molto difficile a questo punto penso che si possa trattare probabilmente di un alieno perché come si vedete la testa è grande anche gli occhi poi c'ha delle cose strane che neanche ho capito allora la schiena presenta queste cose qua di questa sorta di spina dorsale c'era anche questo tubo lo chiamavolo tubo ma mi sa che cavolo è che cosa sia molto difficile spero solo di riuscire a farvi vedere bene perché ovviamente voi nel video mi hanno visto incontandissimi commenti che roba è in questo video non nascondo che l'ho provato a registrare tre volte perché la luce ogni volta non mi permetteva mai che il video venisse bene in alcuni momenti hanno scritto che probabilmente potrebbe essere un animale ma non ha le caratteristiche animali un alieno grigio di a questo punto perché è grigio degli occhi grandi e della testa grande tutto fa pensare a un alieno grigio un giro così cico di farvelo umidire in tutte le sue parti allora adesso ho pelle o chissà che come vedete l'acqua èoccupata adesso e unõplice come vi ho detto nell'altro video anche voi sotto questo qua cercate di dire la vostra cosa pensate che possa essere anche se penso che con questo video qua vi so più l'idea di cosa ossia insomma ci viene meglio ecco